e allora il suono ma sono proprio scuro si è non si ha trovato ma molto più d'altro la sua ma vi c'è una volta che era giovane ma è troppo bello e ci sono tagliato in dito in basso in basso a fare il trevento una volta che tu c'è caspita e allora non 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 Grazie a tutti. 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 Abbray tosse. Abbiamo dato che il gruppo sia leggermente allargato. Ora con tutte le prove che abbiamo fatto. Bravo! E' una storica prima volta che ci vede suonare, vediamo un po'. Eh sì, c'è quello che hai fatto. Il tempo migliore è così. Ma non si. Lo sai, ma non sai. No, 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 meglio uno più... Ah sì? Sì, ma è meglio un... Sì, ma è meglio un... Sì, ma è meglio un... Ehm, 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 ehm... Ehm, 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 ehm... Ehm, 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 ehm... Ehm, ehm, ehm... Ehm, ehm, ehm... Ehm, ehm, ehm... Ehm, ehm... Ehm, 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 ehm... Ehm, ehm... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.